Nell'ambito di approfondite indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, i finanzieri di Catania hanno eseguito, con il supporto dello SCICO e l'ausilio dei comandi provinciali di Mantova, Milano, Monza, Roma e Verona, un provvedimento di sequestro patrimoniale in materia antimafia relativo all'ingente patrimonio pari a circa 98 milioni di euro, riconducibile a due imprenditori, padre e figlio, ritenuti socialmente pericolosi in quanto contigui al clan Scalisi di Adrano, articolazione locale della famiglia mafiosa Laudani. L'indagine di prevenzione, da cui origina il citato provvedimento, si collega alle operazioni Follow the Money e Black Blend condotte dai finanzieri del nucleo PEF di Catania della Guardia di Finanza. Le investigazioni delle fiamme gialle etnee avrebbero disvelato l'operatività di un gruppo criminale di cui i due soggetti in parola sarebbero stati promotori e organizzatori, dedito all'illecita introduzione nel territorio dello Stato di ingenti quantitativi di prodotti energetici provenienti da Austria, Germania, Repubblica Ceca, Romania e Slovenia, formalmente indirizzati a due depositi in provincia di Verona e Catania ma di fatto destinati ad altri siti etnee di stoccaggio gestiti dagli indagati, alla successiva cessione dei citati carburanti a favore di imprese di autotrasporto e distributori stradali operanti nel territorio siciliano. La competitività dei prezzi praticati sarebbe stata assicurata grazie alla sistematica evasione per decine di milioni di euro nelle imposte dovute sui prodotti energetici, in particolare l'IVA, ricorrendo all'omissione ovvero alla presentazione di dichiarazioni fiscali infedeli. A tal fine il nucleo PEF di Catania della Guardia di Finanza ha svolto articolati accertamenti economico-finanziari individuando i beni e le disponibilità direttamente o riconducibili ai proposti. Le analisi svolte per valutarne la loro coerenza rispetto alle fonti reddituali lecite prodotte dai medesimi e dai relativi nuclei familiari hanno fatto emergere un'evidente sproporzione tra le ricchezze accumulate e i redditi complessivamente prodotti, risultati talmente esigui da non poter assicurare nemmeno il sostentamento familiare. Alla luce dei riscontri eseguiti, la sezione misure di prevenzione del tribunale di Catania, su proposta della procura etnea, ha pertanto disposto il sequestro di prevenzione di beni e disponibilità riconducibile ai citati soggetti ritenuti frutto o reimpiego dei proventi illecitamente accumulati.